Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Alessio e oggi andrò a prendere un'immagine e andrò ad editarla con tre software differenti con Lightroom, Capture One e Luminar Neo. Cercherò di fare lo stesso editing però sarà leggermente diverso ovviamente da software a software. Questo video fa seguito ad uno precedente che ho pubblicato la settimana scorsa, ti metterò qui il link da qualche parte dove ho preso un'immagine e l'ho editata da zero con Luminar Neo. E questo video serve un po' per farti capire come la resa dei software è differente, come gli stessi strumenti rendono in modo differente tra un software e l'altro ma soprattutto, una cosa a cui tengo molto, è cercare di far capire che non bisogna partire dall'idea di fare un editing con un software e poi cercare di emulare la stessa tecnica, la stessa procedura di editing anche con altri software. Perché i software hanno, come ti ho già accennato prima, una resa diversa nell'utilizzo degli stessi strumenti oppure hanno degli strumenti completamente diversi, nel caso di Luminar Neo ci sono delle funzionalità che non trovi in altri software quindi bisogna imparare a utilizzare il software, dedicare del tempo per apprenderlo, comprenderlo, capire come reagiscono gli strumenti per poi prendere quella confidenza per fare l'editing che piace a te. E vedremo in questo video come io la stessa immagine l'ho editata con tre software e ho ottenuto tutto sommato a dei risultati differenti ma non sono differenti perché i software non sono in grado di rendere la stessa immagine ma perché in base agli strumenti, le funzioni che avevo a disposizione, anche la mia sensibilità e il modo in cui andavo a editare l'immagine cambia. Prima di farti vedere e di portarti sul desktop al mio computer, faremo questo step, andremo ad editare la stessa immagine con i tre software e poi tireremo le conclusioni, ti voglio chiedere di sostenere il mio progetto, puoi farlo iscrivendoti al canale e mettendo un clic sulla campanella. Se dopo vuoi un qualcosa in più, qui sotto trovi il link per accedere al mio club dove potrai vedere il mio gruppo Telegram privato dove ci sono io e parliamo veramente di tutto e potrai accedere anche ai miei video in anteprima senza pubblicità. Ma adesso iniziamo col vedere la stessa immagine editata con i tre software e iniziamo con Lightroom. Ed eccomi qui con Adobe Lightroom, inizio l'edit della mia immagine. L'immagine che voglio editare è questa qui, quella del tramonto che poi vedremo anche con gli altri software. Vado a nascondere la barra in basso e la colonna di sinistra che non mi serve in modo da avere una visione un po' più ampia dell'immagine. Ok, possiamo passare al modulo sviluppo. Ancora una volta vado a nascondere la colonna di sinistra e iniziamo con l'editing della nostra immagine. Allora, come primo intervento io andrei a schiarire un po' le ombre, lavorando anche con l'esposizione e volendo. Quindi vado ad aumentare qui le ombre. Non fa un grande intervento le ombre su Lightroom, funziona molto di più l'esposizione. E funziona diversamente da come è su Capture One e su Luminar Neo, lo vedremo dopo. Ogni software ha un suo modo di reagire. Per questo motivo io sconsiglio sempre di fare i confronti tra software, ma scegliere un software, imparare ad utilizzarlo e trovare magari le combinazioni migliori con il software che sto utilizzando. Adesso però io vado a fare degli interventi per schiarire questa zona qui in ombra e per farlo devo utilizzare ovviamente le maschere. Quindi clicco qui sulla mascheratura e tra le maschere disponibili scelgo sfumatura lineare. Perché vado a sfumare, vedi questa zona qui, ottimo. E cosa farò qui? Andrò ovviamente a schiarire un po' le ombre, ma l'intervento è minimo. Si vede qualcosa di più lavorando con l'esposizione. Vedi vado ad aumentare. Tiro fuori il dettaglio, ottimo. Aumento il contrasto perché andava ad appiattire un po' il tutto. E anzi potrei lavorare con chiarezza e anche con riduzione foschia, stando attento a non esagerare. Altrimenti vengo fuori un casino, ok. E ormai che ci sono vado ad eliminare questa dominante un po' azzurrogno la che abbiamo. E lo faccio con la temperatura colore. Quindi vado a scaldare un po' questa zona. Ecco che scompare. E posso dargli anche un po' di tinta magenta. E ci sta meglio con la colorazione del sole, ok. Potrò dopo reintervenire sui vari passaggi. Per decidere magari di aumentare un po' di più l'esposizione di questa zona. Ma lo farò di volta in volta. Ottimo. Questo intervento è fatto. Adesso però voglio fare un intervento sul sole. Per sfumarlo e renderlo più interessante. Quindi creo una nuova maschera. E utilizzo sfumatura radiale. Eccola qui. E vado a sfumare. Ecco qui questa zona. Vedi che l'intervento sarà all'interno della nostra maschera. Altri software lavorano all'inverso. Fanno all'esterno e noi dobbiamo invertire la maschera. Lightroom no. Ok. Cosa andrò a fare io qui? L'intervento che posso fare è quello di lavorare su rimozione foschia o chiarezza. Per sfumare un po' il cielo. Guarda. Il sole non il cielo. Con la zona. Sfumo un pochino. Proviamo con chiarezza. Ok. Forse rimozione foschia è quella che lavora meglio. Potrei lavorare anche col contrasto. Un pochino. Vedi. Crea una sfumatura. E questa cosa ci sta bene rispetto ad utilizzare altre tecniche. Perché tanti tendono a contrastare il sole e tirar fuori il dettaglio. In realtà è proprio l'inverso. Andrebbe fatto questo tipo di intervento per far venire fuori questa sfumatura sul sole. Vediamo la maschera. Prima. Magari. Che ci potrebbe star bene. Vediamo qui. Togliamo un po' di contrasto. Ottimo. Direi che ci siamo. Andiamo a lavorare sul cielo. Ormai che sono qui. Creo un'altra maschera. E faccio una sfumatura lineare. Potrei utilizzare anche in selezione a cielo. Eccetera. Ma preferisco lavorare con la sfumatura lineare. Per colpire dove voglio io il cielo. In questo caso. Questa parte qui. Andiamo a spostare un po' il tutto. E adesso una volta fatta questa maschera. Lavorerò con la tonalità. Dove è una cosa che mi piace di più. Vedi gli do un cielo un po' più azzurrogno. Un po' più tendente al violetto. Cosa che preferisco. Eccola qui. Ma volendo posso anche utilizzare la temperatura colore. Per togliere. Dargli un po' più violetto. Un po' più un blu. Un po' più smorto. Scelgo io. Ci potrebbe star bene anche questa. Vedi come dare un po' di temperatura e tinta al nostro cielo. Ok. Diciamo che abbiamo terminato. Quindi vado a chiudere quello che riguarda l'intervento delle mascherature. Sono nuovamente sull'intervento di base della mia foto. E posso concludere con i ritocchi finali. Come un po' di rimozione foschia. Un aumento della chiarezza generale. Posso andare in calibrazione. E qui lavoro con i tre colori principali. Ad esempio con il blu. Potrei togliere un po' di saturazione. Vedi come cambia. Colore. Però togliendo un po' di saturazione sul blu. Vado a compensare. Dando un po' di saturazione sul rosso. Eccola qui. E tolgo anche un po' di tonalità blu. E vedrai che adesso. Compensando queste cose. Vedremo dei risultati. Guarda. Prima. Dopo. Vedi com'è cambiata l'atmosfera dell'immagine. Qui decidi tu. Quanto vuoi esagerare. Puoi anche agire volendo. Sulle ombre. Dando una tinta un po' più verde o magenta. Scegli tu. Vedi. Un po' più sul verde. Un po' più sul magenta. Sta a noi a decidere. Tanti preferiscono dare sui tramonti. Un po' di magenta. Sulle ombre. Per avere questo risultato. Una volta che abbiamo terminato. Vediamo l'immagine. Com'era prima. Dopo. Direi. Che. Per questo intervento. Con Lightroom ci sta bene. E vado a salvare la mia immagine. Questo primo editing è andato. E adesso. Vediamo la stessa immagine. Editata. Con Capture One. Nell'ultima release. Rilasciata. Ed eccomi qui con Capture One Pro 22. Nell'ultima edizione rilasciata. Nell'ultima versione. Dove si vedono queste iconcine. Che sono cambiate. Dei pannelli. Nella sostanza non cambia nulla. Perché abbiamo sempre gli stessi strumenti. All'interno. E vado ad editare. La stessa immagine di prima. Qui ho il browser. Che mi permette di navigare tra le foto. E vado subito a nasconderlo. In modo da avere una visione ampia. Della mia foto. E vado a fare il primo intervento. Il primo intervento che vado a fare. È quello di sfruttare il livello di base. Andiamo qui sui livelli. Sono posizionato sullo sfondo. E vado a sfruttare HDR. Per tirar fuori il dettaglio sulle ombre. Eccola lì. Volendo potrei anche operare in modo differente. Da questo punto. Aumentare un pochino l'esposizione. Fintanto che ritengo opportuno. Che non va a rovinare l'immagine. Specialmente il cielo. Perché dopo mi dà una mano anche sul sole. Lo capiremo più avanti. Ma vado a schiarire comunque le zone d'ombra. Ok. Bene. Faccio un primo intervento. Dopo ne farò un altro specifico. Per la zona qui in basso. Infatti adesso vado a creare un livello. Dove andrò ad agire esclusivamente su questa zona un po' più in basso. Quindi vado a prendere in quanto primo livello. Mi basta selezionare lo strumento. La maschera gradiente lineare. E vado a creare. Eccola qui. La mia maschera. L'intervento andrà a colpire. Ovviamente soltanto la parte in basso. Premo M per farti vedere. Eccola qui. Questa zona qui. Bene. Che tipo di intervento vado a fare? Vedi che gli strumenti sono tutti resettati. Posso anche rinominare questo livello con terreno. Perfetto. In modo da riconoscerlo. Il primo passaggio che vado a fare. E' quello di sfruttare HDR ancora una volta. Per tirar fuori dettaglio dalle zone qui più in basso in ombra. Ok. Va bene. Se volessi un qualcosa in più posso lavorare con la luminosità. Oppure potrei lavorare con l'esposizione. Decido io cosa fare. Vado a dare un altro colpetto un po' con l'esposizione. Aumento però anche un po' il contrasto. Il contrasto mi fa anche aumentare un po' la saturazione dei colori. Quindi posso dosare le cose assieme. Ormai che ci sono. Vedi che c'è una dominante un po' azzurrogno la blu sulla strada di sassi. Quindi sfrutto il bilanciamento del bianco per correggere questa cosa. Vado a togliere la dominante che scalla anche un po' tutta la zona più in basso. Vado anche a dare un po' di tinta verso il magenta. Che si sposa meglio con il sole. Adesso vado, visto che ho parlato del sole, vado a fare un intervento proprio sul sole. In modo da renderlo più interessante. E per far questo vado a creare un nuovo livello. Quindi creiamo un nuovo livello. Qui lo chiamiamo sole. Perfetto. Sole U. Sole. Eccolo qua. E vado a prendere un altro tipo di maschera. Una maschera gradiente radiale. Prendo questa maschera e creo qui la sfumatura. Perché voglio che vada a colpire questa zona. Attenzione che la maschera lavora all'inverso. Ovvero va a colpire le zone al di fuori. Tanto che ti faccio vedere. Guarda se io abbasso l'esposizione. Vedi rimane lì fermo. E rimane intatto il centro. No. Andiamo ad invertire. Quindi tasto destro. Inverti maschera sul livello sole. E attenzione cosa vado a fare. Io prima di tutto vado qui su chiarizza. E vado a togliere un po' di chiarizza al sole. Per renderlo leggermente più sfumato. Guarda. Vedi che crea una sfumatura molto interessante. Puoi vederlo meglio magari facendo così. Prima. Dopo. E ormai che ci sono. Vado anche sul bilanciamento del bianco. E attenzione cosa faccio. Vado a scaldare un po' il colore del sole. Lo porto un po' più verso l'arancio. Molto molto carino. E qui su HDR. Prendo alte luci. Vado a aumentare un pochino. In modo da far venire fuori. Vedi l'intensità del sole. Che se esagero. Vedi. Lo faccio. Vedi che lo compare. Gli do un po' di intensità. Del sole. Ok. Ci siamo. Andiamo a vedere. Prima. Dopo. Bene. Ultimo intervento. Lo faccio sul cielo. Quindi creo un nuovo livello. Prendo. Lo chiamo cielo. Questa volta. Cielo. Ok. E vado a prendere qui. Un'altra volta. Un'altra maschera. Gradiente lineare. Questa volta. Che agisce. In questa zona qui. E attenzione. Cosa faccio. Vado a lavorare. Con. Gli editor. Colore. Che andrà ad agire. Esclusivamente. Sul cielo. Vado a prendere. Questo strumento. Qui. Il campionatore. In sostanza. Vado qui sopra. E cliccando lì. Se faccio. Da sinistra a destra. Cambia la tonalità. Infatti vedi che. Va verso più. Un azzurro. O più. Verso un violetto. Quindi. Verso destra. Vado un po' più. Verso violetta. Andando su e giù. Aumento. O riduco la saturazione. E riduco un po' la saturazione. Quindi vado un po' verso il violetto. E riduco la saturazione. Eventualmente. Potrò agire direttamente. Qui. Vedi. Campionato. Il colore blu. Posso andare qui. E agire direttamente. Con. Gli slider. Bene. Direi che il più è fatto. Torno sul livello. Di sfondo. Perché al massimo. Posso decidere. Di dargli. Delle ritoccate finali. Come un aumento. Un po' di saturazione. Se lo desidero. Se voglio. Cambiare un po' il bilanciamento. Del bianco. Per rendere più calda. L'immagine. Meno calda. Dargli una dominante. Un po' più magenta. Meno magenta. Qui entrano in gioco. I gusti personali. Una volta trovata. La combinazione. Che ci sta bene. Tipo. In questo caso. Posso vedere anche. Com'è. Prima. O dopo. L'immagine. Prima. Dopo. E posso decidere. Magari. Che mi va bene. Oppure. Posso sempre. Dallo sfondo. Ridurre un po'. L'esposizione. Per fargli recuperare. Un po' di contrasto. Insomma. Dargli un'atmosfera. Differente. Una volta terminato. Posso esportare. La mia immagine. E adesso è arrivato il momento. Di Luminar Neo. Che è un po' il cuore. Di questo video. Perché volevo farti vedere. Come Luminar Neo. Reagisce. Nell'editing. Delle immagini. Rispetto. Agli altri. Due software. Molto più blasonati. E costosi. E poi tireremo le conclusioni finali. Ed eccomi qui. Su Luminar Neo. Dove vado a lavorare. La stessa immagine. Che abbiamo visto in precedenza. Eccola qui. Il mio bel tramonto. E mi sposto. Sul pannello modifica. Qui l'interfaccia. È molto pulita. Il Luminar Neo. Mi piace molto. Perché è moderna. E non hai nessuna distrazione. Qui alla destra. È la colonna. Con tutti gli strumenti. Che ti mette a disposizione. Da qui davanti. Vado a fare lo sviluppo. Del mio file. Devo ricordarmi una cosa. Luminar è differente dagli altri software. Quindi bisogna imparare un po' ad utilizzarlo. E bisogna imparare a utilizzare gli strumenti. In base a come reagiscono. E vedremo adesso. Cosa cambia rispetto agli interventi. Che faccio con gli altri software. Ad esempio. Da questa immagine. Come primo passaggio. Vado a fare un normale sviluppo. Quindi vado su sviluppo. E cosa posso fare? Posso agire su varie parti dell'immagine. Ma a me interessa soprattutto schiarire questa zona un po' più in basso. Le ombre. Quindi vado a schiarire un po' le ombre. E vedi che agisce in modo più deciso rispetto a Lightroom. Un po' più simile a come fa Capture One. Ma devo sempre stare attento a non rovinarmi il cielo. Quindi aumento un po' le ombre. Eventualmente posso anche aumentare un po' l'esposizione. Ma sempre con attenzione. Direi che questi valori possono andare bene. Adesso passo con un altro strumento. Che è disponibile solo su Luminar Con Migliora Con. Questo strumento ha Ascent Migliora Cielo. Io andrò a utilizzare solo Ascent Accento. Perché guarda cosa fa. Aumentando questo valore. L'immagine prende un po' di dettaglio. Si schiarisce. Diventa un po' più croccante. Diciamo rispetto agli altri interventi che avevano gli altri software. Da una sistemata generica. Potrei utilizzare anche Migliora Cielo. Ma non mi interessa. Non lo lascio a zero. Adesso vado a fare un intervento specifico per la zona un po' più in basso qui. Un po' più scura. Come ho già visto in altri software. E vado a utilizzare nuovamente lo strumento sviluppo. Ma vedi. Crea un altro sviluppo. Quindi vado sviluppo. Vado su maschere. E crea una sfumatura lineare. Come l'abbiamo già vista con gli altri software. Ed eccola qui. Vado a colpire questa zona. Cosa farò? Tono gli aggiustamenti. Il primo passaggio che vado a fare. è quello ancora una volta di schiarire un po' la zona con le ombre. Ok. Schiarita. Si appiattisce un pochino. Quindi ci vado anche a dare un po' di contrasto intelligente. E vado ad eliminare questo dominante blu. Lo faccio andando su colore. Ed agendo sulla temperatura. Vedi. Tolgo un po' di dominante. E vado anche a dare un po' di magenta. Eccola qui. Dopo potrò fare un intervento un po' più deciso. Per la color dell'immagine. Ok. Bene. Adesso vado a lavorare sul sole. Per farlo. Vado anche qui a creare una maschera radiale per il sole. Ma sfrutto uno strumento differente. Che lo troviamo solo su Luminar Neo Mistico. Eccolo qui. Seleziono Mistico. Maschere. Sfumatura radiale. E creo la mia mascheratura. Attenzione. Vedi che lavora all'esterno. Quindi devo ricordarmi di invertire la maschera. E dopo adattarla per creare questa sfumatura. Ok. Direi che questa sfumatura potrebbe anche andare bene. Direi che posso fare il mio intervento. Quindi vado su Aggiustamenti. E attenzione cosa faccio. Aumento il valore di Mistico. Voilà. E guarda che bello. Veramente interessante come agisce. Guarda. Prima. Dopo. Secondo me è quello che interviene meglio. Ovviamente ha degli effetti collaterali. Vedi che si escurisce molto. Ma qui ho la possibilità di selezionare ombre. Per schiarire o lasciarle più scure. Schiariamo un po' le ombre. Possiamo anche lavorare con la levigatezza. Un po' più concentrato. Qui sulla zona. Oppure lasciarlo un po' più sfumato all'esterno. Qui sta a noi scegliere i gusti che abbiamo. Direi che questo qui mi piace un po' di più. Vediamo. Prima. Dopo. Molto. Molto. Carino. Facciamo un intervento sul cielo. Quindi vado a creare nuovamente una mascheratura. Però devo utilizzare gli strumenti di colore. Eccolo qui. Perché poi lavorerò con HSL. Quindi maschere. Sfumatura lineare. Crea una sfumatura qui. Lineare sul cielo. E vado a riposizionare la maschera. Ok. Torniamo su aggiustamenti. HSL. Vado sulla tonalità. E lavorerò sui blu. Per dargli un po' la tonalità verso il violetto. Quindi posso lavorare con tutti e tre questi qua. Per scegliere questa modifica. Se ritengo, come lo sto notando adesso, un po' troppo incisivo qui l'intervento sul sole. Posso tornare su modifiche. Avrò tutte le mie modifiche. Tornerò su mistico. E potrò decidere magari di ridurre questo valore per renderlo meno intenso. Oppure decidere che le ombre sono eccessive e devo schiedirle di più. Deciderò io che tipo di intervento fare. Lo riduco un pochino. Vediamo prima o dopo. Per vederlo ma non renderlo eccessivamente ingombrante. Torniamo su strumenti. E andiamo a vedere un prima o dopo. Prima. Dopo. Direi che ho quasi completato. Se voglio ci posso dare dei colpetti finali di miglioramento. Che puoi fare con armonia dei colori. Andando su bilanciamento colore. Quindi proprio gli ultimi degli strumenti disponibili. Agendo su ombre, mezzo di tonio e luci. Puoi gestire il ciano rosso, magenta verde, giallo blu. Ad esempio sulle ombre posso dargli un po' di rosso in più. Guarda cosa succede se esagero qualche dominante. Bisogna stare molto attenti. Potrei dargli un valore 1, 2. Ecco qui. Vediamo. Prima, dopo. Bisogna stare attenti con il dosaggio. Perché è facile farsi prendere la mano. Vado sui mezzi toni e tolgo un po' di verde. Un meno 2. Prima, dopo. Ho fatto i miei interventi. E' bene sempre fare l'intervento. Guardarlo, riguardarlo. Per capire se abbiamo esagerato con il tutto. Perché potrò comunque alla fine. Tornando ad esempio su colore. Va benissimo. Lavorare su saturazione e vividezza. Per togliere magari un po' di saturazione. Adesso ho esagerato. Se ritengo di aver esagerato un pochino. Tolgo un po' di saturazione. Se mi sembro di aver esagerato un pochino troppo con l'intensità dei colori. Lavoro solo con la vividezza. Vedi. Fanno degli interventi un po' più specifici. Saturazione agisce su tutti i colori in modo indeterminato. Vividezza agisce su tutti i colori. Dando la prevalenza. Più importanza ai colori un po' più smorti. Quindi lavorando sui mezzi toni in sostanza. Ma andiamo a ridurre magari un po' la saturazione. Perché l'immagine con Luminar Neo è diventata un po' eccessivamente satura di colori. Vediamo prima o dopo. Ecco forse così è più neutra. Più naturale. E direi che possiamo esportare la nostra immagine. Salvarla. Dove desideriamo. Ed eccomi qui. Ho editato la stessa immagine con i tre software. Adesso andiamo a tirare un po' le conclusioni. Ti metto qui sotto intanto le anteprime dei risultati finali. Come puoi vedere le immagini sono molto simili nel risultato finale. Però sono sempre un po' diverse. Perché gli strumenti reagiscono in modo differente in base al software sul quale vai a utilizzarli. Poi ci sono degli strumenti che sono presenti solo in certi software. Come quelli su Luminar Neo. E quindi anche il risultato può essere proprio differente. È normale. Però in linea di massima vedi che sono molto simili. Così a primo impatto ti dico. Le immagini. Il risultato che mi è piaciuto di più è quello ottenuto con Capture One e con Luminar Neo. E qui è una cosa interessante perché io mi concentrerò su questo video sull'analisi di Luminar Neo verso gli altri. Perché Luminar Neo lo vende un po' come la Cenerentola. Il software commerciale che paga una sola volta, licenza perpetua. Che va a confrontarsi contro dei software molto importanti come Capture One molto costoso. O Adobe Lightroom che fa parte di un pacchetto che puoi avere solo un abbonamento. Quindi andiamo a vedere e tirare delle conclusioni, almeno secondo me, su questo software Luminar Neo rispetto agli altri. Iniziamo appunto con i vantaggi, le cose che mi sono piaciute di più di Luminar Neo. Di Luminar Neo mi è piaciuto tantissimo l'interfaccia. L'interfaccia è pulita, sei concentrato sulla foto, hai i tuoi strumenti alla destra, bel font. Insomma mi piace come ha gestito il tutto. Mentre se andiamo a vedere gli altri software partendo ad esempio da Lightroom, io dico che Lightroom ha un'interfaccia vecchia, ha un'interfaccia anni 2000. Quindi dovrebbe essere rinnovata, certo c'è Lightroom CC che è stato rinnovato, però Lightroom Classic rimane con quell'interfaccia vecchia, non mi piace. Se poi andiamo su Capture One, l'interfaccia mi piace molto, però è molto molto complesso. Lo sappiamo, ho anche un corso su Capture One, ma Capture One è un strumento molto potente, ma allo stesso tempo anche molto complesso da prendere a primo impatto, molto personalizzabile. Insomma mi piace la semplicità e pulizia dell'interfaccia di Luminar Neo. Aspetti diciamo negativi dei tre software, se andiamo a vedere Luminar Neo partendo proprio da lui, una cosa che non so se sia un pregio o un difetto, è il fatto che hai degli strumenti talmente potenti e tanti nella disposizione che è facile farsi prendere la mano. Ho commentato proprio, ho avuto uno scambio di commenti nel video precedente con una persona che mi diceva che Luminar Neo con tutti quei strumenti, con tutta quella tecnologia, quella AI eccetera, magari rischia di farti fare dei spatrocchi sull'immagine ed è vero, ha ragione. Ha talmente tanti strumenti e sono così potenti che è facile farsi prendere la mano. Però come dico sempre, gli strumenti sono solo strumenti, dobbiamo noi imparare ad utilizzarli. Se ti fai prendere la mano ovviamente, rischi di danneggiare tanto le tue immagini creando delle cose un po' troppo artificiose. Però con Luminar Neo si può fare bene stando attenti. Con software tipo Lightroom e Capture One invece dal punto di vista del risultato finale forse è più facile ottenere un risultato equilibrato, però anche lì bisogna stare attenti ai dischi magari di fare dei danni. Diciamo che Capture One tra i tre è quello che ti porta un po' più di problematiche perché appunto ha tanti strumenti e sono tanto complessi. Allora magari qualcuno lì può sbagliare a fare l'editing ma non perché lo strumento si fa prendere la mano dello strumento ma quanto piuttosto perché non riesce a capire come dosare quale strumento adottare nel momento giusto. Da questo punto di vista possiamo ancora dire una volta che preferisco forse o mi piace, diciamo così, mi piace Luminar Neo soprattutto per il fatto che hai tanti strumenti. Ovviamente bisogna stare attenti nell'utilizzare quelli che servono perché se ti fai prendere la mano fai dei disastri. E adesso vediamo qual è il consiglio finale che posso darti su quale software adottare, su quale indirizzarti. Allora dal mio punto di vista tu dovresti andare sicuramente su un software come Luminar Neo se non sei propenso a pagare tanti soldi per un software professionale come Capture One o non ti va l'idea di pagare un abbonamento come sul pacchetto Adobe ecco da questo punto di vista ti prendi Luminar Neo e sai di avere una licenza perpetua l'hai pagato una volta fine però devi stare un po' attento attenta a dosare gli strumenti devi dedicare un po' di tempo non tanto a capire come funziona il software perché è molto molto semplice ma in quanto piuttosto su come dosare correttamente le varie cose che hai a disposizione i vari strumenti che hai a disposizione è facile utilizzare un filtro mistico quando magari dovevi utilizzare una riduzione del contrasto insomma è facile fare questo errore ma lì si risolve con un po' di pratica considerato che prendi quel software e lo utilizzi per tanto tempo senza dover sborsare ulteriori soldi ecco che magari questo aiuta dall'altro canto abbiamo Capture One un software molto potente ma ti ho detto anche molto complesso oppure Adobe Lightroom che è un po' più semplice ma anche lì si tratta di un software vecchio lo dico sempre così vecchio anni 2000 con tante schede, tanti passaggi, libreria, sviluppo, libro, web sì tante cose che magari però sono ormai andate vecchie non sono più così attuali anche come interfaccia però hai sempre quell'abbonamento che dovrai pagare ogni mese o ogni anno se poi andiamo a vedere il risultato finale tra i tre diciamo che quello che esporta più velocemente è sicuramente Capture One è una freccia nell'esportazione Lightroom è migliorato con l'ultimo aggiornamento decisamente migliorato è molto più veloce nell'esportazione dei file qui Neo è ancora un po' zoppiccante perché è un po' lento nell'esportazione delle immagini JPEG ma ho visto che praticamente ci mette tanto tempo per partire una volta che parte riesce magari ad esportare le 3-4 immagini in modo un po' più veloce però è lento questo dobbiamo tenerlo in considerazione adesso voglio il tuo punto di vista vai qui sotto nei commenti e ti riporto nuovamente qui le immagini come sono state esportate e fai una tua valutazione dimmi un po' cosa ti è piaciuto qual è il risultato che ti piace di più tra i tre io te l'ho detto quello che mi piace di più è quello ottenuto con Capture One e quello con Luminar Neo quello con Lightroom un po' meno ma attenzione non significa che non potevo migliorare con Lightroom semplicemente in questo momento quando ho fatto l'editing ho ottenuto e mi pareva buono quel risultato per questo video è tutto se ti è piaciuto ricordati di metterci un like iscriviti al canale e un clicco sulla campanella e noi ci vediamo al prossimo video ciao da Alessio